Si fa una spesa quotidiana completa, ma il punto di forza del negozio sarà il rapporto con le persone. Noi vogliamo puntare molto sul rapporto, la relazione di tutti i giorni, instaurare un rapporto alla vecchia maniera, tornare un pochino indietro nel tempo. Freschi di qualità e prodotti del territorio, possibilmente vicino a casa, nasce così anche ad Arezzo una nuova bottega Copfi in via Garbasso. Noi abbiamo voluto replicare un'esperienza che abbiamo già fatto da qualche settimana nella città di Prato, cioè quella di aumentare la nostra presenza anche su Arezzo con un modello di negozio piccolo, ma con dei contenuti importanti che possa rispondere a quelle che sono le esigenze quotidiane dei consumatori. Quindi abbiamo cercato di enfatizzare la presenza di tutti i reparti freschissimi, dall'ortofrutta alle carni, alla gastronomia e forneria serviti, con anche la presenza di molti prodotti del territorio locale. Il punto vendita è pensato infatti per i residenti della zona per una spesa giornaliera, una sorta di bottega moderna che pensa anche alle nuove esigenze dei consumatori. Abbiamo imparato che non c'è bisogno di fare spese mastodontiche per poi rischiare di buttare anche parte di quella acquistata, quindi una spesa giornaliera. Ho bisogno di questo, compro questo e lo consumo, senza sprechi.